Criterio numero 7, cioè il criterio estetico-paesaggistico. Quindi vedete questa è la definizione, il sito deve rappresentare dei fenomeni naturali, oppure aree, di una bellezza naturale e di un'importanza estetica eccezionali. Attenzione, stiamo parlando di estetica, stiamo parlando di bellezza, sono concetti spesso e volentieri soggettivi. In realtà qui l'analisi che è stata fatta è un'analisi di tipo scientifico, quindi è rigorosa. Non bastava dire che le dolomiti sono belle, perché non era sufficiente. E quindi questa analisi scientifica è stata fatta seguendo vari criteri. Il primo è stato quello di analizzare la struttura del paesaggio dolomitico. Cosa significa? Si prende il paesaggio delle dolomiti, è stato suddiviso in unità di paesaggio, che mettono in evidenza le parti, le strutture elementari che sono ben conoscibili e che si ripetono nell'ambito del territorio, in tutta la regione candidata. Sembrano parole complicate, in realtà se poi andiamo a vedere questa analisi di struttura del paesaggio, ci rendiamo conto che non è così. Allora, il paesaggio delle dolomiti, qual è il minimo comune denominatore di queste zone? Beh, abbiamo dei basamenti, sono molto dolci, sono molto ondulati, sono spesso costituiti da prati, da pascoli, da boschi, questo è il primo elemento. Il secondo elemento caratteristico, abbiamo delle fasce detritiche, quindi i cosiddetti ghiaioni, che circondano la base delle grandi pareti carbonatiche. Il terzo elemento, invece, sono le pareti stesse, quindi abbiamo pareti perfettamente verticali, con un certo di verticalità, di colore chiaro, con varietà di forme straordinarie, che hanno questa caratteristica di elevarsi improvvisamente e inaspettatamente dal terreno. Quindi questi sono i tre elementi base, le unità strutturali fondamentali del paesaggio dell'Umitico e comuni a tutti e nuovi sistemi. Il secondo elemento paesaggistico analizzato sono stati i cosiddetti valori scenografici. Vedete? Esamina la visione complessiva del paesaggio dell'Umitico e tratta i valori scenografici delle aree candidate. Scenografia è un concetto, insomma, a me piace fare una specie di paragone con le note scenografie di un teatro, ad esempio, o del cinema. Qui più o meno è una cosa simile. E quali sono i valori scenografici analizzati nell'ambito delle Dolomiti? Il primo, importantissimo, è la verticalità. Cioè, i Dolomiti sono caratterizzati da queste grandi pareti verticali. Qui abbiamo alcuni esempi che conoscete, questi sono questi lettori del Valiolet, questa è la Nier, questa è una delle pareti verticali, anzi, è la parete verticale di rocce carbonatiche più alta del mondo. Questo è Civetta. Quindi abbiamo questo elemento di verticalità che è un elemento che, dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista scenografico, che colpisce. Penso che chiunque di voi si trovi al di sotto e guarda verso l'alto questi elementi giganteschi, prova qualcosa. La scenografia è fatta nei teatri e nel cinema per colpire chi osserva, per dare anche dei messaggi. Ecco, oltre ad avere questa verticalità straordinaria, nell'ambito delle Dolomiti, abbiamo una varietà di forme. Cioè, queste sono montagne, in tutto caso, assolutamente non banali, non sono mai uguali l'una all'altra. Vedete come cambiano, abbiamo queste grandi, queste fratturazioni, queste guglie. Quindi, è un altro elemento scenografico importantissimo. Questo è un altro esempio, qui siamo sull'atema. Vedete che non è qualcosa di banale, di semplice, qualcosa di estremamente complesso, uno che osserva, anche senza capire, dice, beh, la donna qui non c'è niente, tutte queste guglie, queste cose, è un po' come guardare, non so, una sagrada famiglia, o anche il Duomo di Milano, sostanzialmente. Il paragone che può essere fatto è quello lì. Ecco, oltre alle guglie, per quel che riguarda la varietà di forno, un altro elemento importantissimo nelle Dolomiti è il fatto che siamo in presenza di elementi che richiamano l'orizzontalità, vedete qui abbiamo degli strati rocciosi che tendono ad essere orizzontali, assieme ad elementi che richiamano poi la verticalità. E anche questa è una cosa molto peculiare del paesaggio dolomitico. Ecco, un altro valore scenografico che è stato analizzato, molto importante, interessante, è la cosiddetta monumentalità. Cioè il fatto che, osservando il paesaggio delle Dolomiti, noi possiamo riconoscere delle forme che sono simili alle forme create dall'architettura umana. Sono state fatte diverse analisi, qui abbiamo l'esempio delle tre cime di Lavaredo, questa immagine, ed è questo il paterno. Le tre cime di Lavaredo richiamano, con la loro struttura, diciamo, quelle che possono essere i bastioni di un castello medievale. Quindi, dopodiché, vedete questo castello un po' alla volta nel tempo cade, crolla, eccetera, fino ad assumere i resti che potrebbero essere rappresentati appunto dal vicino Monte Paterno. Questo è uno dei tanti esempi che possiamo vedere di monumentalità nel territorio dolomitico, se ne sono molti altri, ecco, il fatto, ad esempio, che molte forme proprio assumano anche i nomi, i termini topografici, assumano i nomi di architettura. Questo è il campanile della Valmontanaia, che appunto chiama il campanile delle chiese. Abbiamo anche delle finestre come queste, vedete? Ecco, questi sono tutti elementi della scenografia dolomitica che riguardano la monumentalità. Bene, passiamo ad un altro aspetto della scenografia delle dolomiti, che sono i colori. Anche questo analizzato in maniera rigorosa, le dolomiti sono montagne caratterizzate da che cosa? Dai contrasti, contrasti di colori, contrasti che sono legati a tanti aspetti. In questa immagine a destra vedete la di Amaltofana di Roses, possono essere legati ad aspetti geologici, che sono messe a confronto delle rocce di tipo carbonatico, formate da calcare o dolomia, che sono sempre di colore chiaro, con rocce ricche di elementi ferrosi, quindi rossi. Ma il contrasto di colori possono riguardare anche i momenti del giorno in cui la luce colpisce queste rocce, che cambiano, oppure anche la stagionalità, il fatto che la luce ignubi in queste montagne in inverno, oppure in estate, questo è il cimone della pala. Ecco, una delle cose più caratteristiche, infatti, delle dolomiti è l'erosadira, cioè quel fenomeno per cui queste pareti rocciose cambiano il loro colore, a seconda se vengono colpite dalla luce all'alba oppure al tramonto. Qui abbiamo un esempio di monti, un bellissimo esempio che parla dei monti pallidi, un altro dei termini con cui vengono identificate queste montagne, in cui uno capisce anche il perché, all'alba. Alcuni esempi di foto invece di queste montagne al tramonto, il colore è completamente diverso. Questo è il pesimo. Altro esempio, questo credo sia il Burella, il tramonto nella zona qui del parco naturale delle dolomiti bellunesi. Come vi dicevo, poi, il fatto della stagionalità, quindi quando arriva la neve cambia ancora il colore. Questa è una foto notturna, vedete, molto bella con la luna. Qui ho messo... Abbiamo il simone della pala, vedete? Una visione, diciamo così, autunnale e una visione invernale. Quindi il contrasto di colori, un altro elemento importantissimo della scenografia delle dolomiti. Ecco, un altro aspetto interessante che riguarda sempre questo fenomeno è la presenza in dolomiti insieme di rocce di origine carbonatica, quindi sostanzialmente di origine organica, generate dall'attività degli esseri viventi, che in questo caso sono calcari e quindi chiari, e rocce di origine vulcanica. Quindi rocce che sono sempre di colore scuro. Anche questo è un aspetto importante. Qui eravamo al Passo Feudo, in Trentino. Bene, abbiamo visto quindi la scenografia delle dolomiti data da tutta una serie di elementi, la verticalità, la monumentalità, il contrasto di colori. Adesso, nell'analisi del paesaggio dolomitico, vediamo un altro aspetto, che è quello dell'importanza estetica. Quindi, in questo caso, le dolomiti sono state analizzate, proprio dal punto di vista estetico e anche storico, e si è visto quella che era l'importanza di queste montagne. Cioè, vedete, questa analisi descrive quanto queste montagne hanno colpito l'immaginazione di chi le ha studiate, visitate, o anche soltanto traversate. Le dolomiti sono importanti dal punto di vista estetico? Beh, certo. Una delle prove, una delle tante prove che sono state portate nel dossier, ad esempio, è questa. Cioè, il fatto che nell'ambito di questo territorio, di queste montagne, siano sorte, nel tempo, una grande quantità di fiabe di leggende. Questo perché? Perché queste montagne colpivano l'immaginazione di chi ci viveva nel passato. Quindi, chi ci viveva le guardava, vedeva tutta una serie di fenomeni, anche naturali, importanti, tipo, ad esempio, quello delle Rosadira, e da qui, per spiegare questi fenomeni, nascevano, appunto, fiabe leggende. Qui, la leggenda di Re Laurino, nel Rosengarten, è tipicamente legata al fenomeno delle Rosadira, cioè il fatto che la montagna cambia colore all'alba e al tramonto. E questo è un aspetto importante. Ma non solo quello delle leggende. Abbiamo anche le arti figurative. Queste montagne hanno sempre colpito gli artisti, i pittori, e, diciamo, sono state molto, molto importanti anche per quel che riguarda la propria storia dell'arte. Vedete, per esempio, qui abbiamo citato un importante scienziato, Humboldt, che era anche, all'epoca, stiamo parlando dell'Ottocento, erano comunque, gli scienziati erano anche spesso umanisti, insinio umanisti, e quindi, quando ho visto queste montagne, ho capito che erano eccezionalmente bellissime, eccezionali dal punto di vista estetico e scenografico, e addirittura le ha paragonate alle montagne dipinte da Leonardo, come sfondo della Mona Lisa. Quindi, queste montagne hanno rappresentato e rappresentano ancora qualcosa di straordinario dal punto di vista della pittura, del disegno, eccetera. Ma, per quel che riguarda l'importanza estetica, beh, sono state fondamentali anche nell'ambito della scienza. Spesso e volentieri, gli scienziati, come vi ho detto prima, nel passato, erano anche degli insinio umanisti. Quindi, venivano nelle Dolomiti non tanto perché erano attirati dalla loro importanza scientifica, ma dalla loro bellezza. Dopodiché, scoprivano anche quella che era, e hanno scoperto quella che era, ed è l'importanza scientifica di queste montagne. Uno di questi, per esempio, è quello che ha dato il nome alle Dolomiti, di Odà di Dolomie, il quale girando in quest'area, facendo un viaggio, appunto, non tanto per studiare dal punto di vista scientifico, ma perché erano all'epoca, stiamo parlando alla fine, agli inizi dell'Ottocento, cominciavano ad essere considerate delle montagne bellissime da visitare, ad essere guardate. Andando in queste zone, lui era preso su un sasso, ha visto che c'era qualcosa di particolare, lo ha portato in Francia, lo ha fatto analizzare, e ha scoperto la Dolomia, la roccia che poi ha dato il nome a queste montagne. Ecco, naturalmente, abbiamo visto le arti figurative, ma le Dolomiti sono anche importanti per quel che riguarda la letteratura, in particolar modo la letteratura di viaggio. Ci sono montagne bellissime, attiravano i viaggiatori, attiravano i primi alpinisti, e questi scrivevano. Quindi, nell'ambito della letteratura alpinistica, l'immagine estetica delle Dolomiti è stata molto, molto importante. Ecco, l'insieme, abbiamo visto l'insieme di tutti questi elementi che sono stati analizzati scientificamente nell'ambito della dossier, ha permesso di arrivare, alla fine, ad una definizione fondamentale, e cioè che le Dolomiti costituiscono un archetipo, cioè l'archetipo di una particolare tipologia di paesaggio montano definito paesaggio dolomitico. Cosa significa questo? Che nel mondo esistono altre montagne che si chiamano Dolomiti. Ad esempio, qui vicino a noi abbiamo le Dolomiti di Lienz. ma perché si chiamano Dolomiti? Proprio perché il paesaggio fondamentale, l'archetipo, il paesaggio più importante lo abbiamo qui. Ecco, quindi questa è una cosa importantissima da capire. Ed è stato un altro degli elementi, diciamo, più importanti che hanno riguardato, che hanno risultato risultati vincenti, questo è stato dimostrato diciamo scientificamente, che sono stati risultati vincenti nell'ambito del dossier di candidatura. Se ci sono delle cose che non capite, mi raccomando, poi potete anche tranquillamente interrompermi. Bene, adesso passiamo grazie. Grazie. Grazie.